Questa è Teleradio Carpegna. 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 a pietà di noi perché tu sono il Santo solo il Signore solo il Signore Gesù Cristo con lo Spirito Santo nella gloria di tuo Padre con lo Spirito Santo nella gloria di tuo Padre con lo Spirito nella gloria di tuo Padre Padre con lo Spirito con lo Spirito con lo Spirito sulla barca in mezzo a mare e mentre il cielo si bianca già il cuore e il cuore e il cuore la voce che ti chiama la voce che ti chiama la voce che ti mostrerà e il cuore che ti chiama che ti chiamperà Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.